Sì è vero, a Fico si mangerà, ci saranno 40 punti di ristoro, ma ci saranno anche due punti in cui si potrà bere, bere italiano, al bar d'ingresso, al bici bar e al Fico cocktail bar. Si potranno provare dei drink, dei liquori, degli spiriti italiani. Questo è quello che faremo, fare bere le persone in maniera consapevole, riuscendo a spiegare che cosa stanno bevendo, la storia dei liquori, la storia di quello che è una grande parte del tessuto sociale italiano. Ripeto, non c'è solo il mangiare, c'è anche il bere. Se poi vorrete bere e mangiare, ben venga. Ci vediamo a Fico, a presto!